Musica Presentato a Palazzo del Pegaso il rapporto IRPET sui divari di genere. Per il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo serve un cambiamento culturale e le istituzioni hanno il dovere di favorirlo. Il Presidente Mazzeo e i consiglieri Benucci e Tozzi hanno visitato l'Orto Frutticola Mugello, l'azienda che ha ripreso l'attività dopo lo spettro della chiusura. A Palazzo Pretoria a Certaldo una serie di esposizioni di artisti toscani Luigi Montanarini, Gian Paolo Talani e Claudio Cionini. Inaugurata l'esposizione fotografica Voci di Libertà che raccoglie le immagini dedicate ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Il rapporto IRPET sui divari di genere Donne alle prese con lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Ne parla divari di genere in Toscana il rapporto dell'IRPET, l'Istituto regionale di programmazione economica della Toscana presentato a Palazzo del Pegaso. Quella proposta dall'IRPET è un'analisi strutturale condotta su input della Commissione per le Pari Opportunità della Toscana preseduta da Francesca Basanieri. Emergono dati che stiamo toccando con mano nel quotidiano. Ancora oggi una donna su due non lavora perché non è possibile conciliare i tempi di vita e quelli professionali ed è costretta a scegliere tra i figli e il lavoro. In Italia le posizioni manageriali femminili sono solo il 28% del totale e la pandemia ha rallentato il processo di superamento del gender gap nel mercato del lavoro, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il Presidente ha ricordato che il Consiglio regionale ha lavorato insieme alla Commissione Pari Opportunità, prima regione in Italia, alla nuova legge sulla parità effettiva di genere nelle nomine di carattere regionale. Al tempo stesso abbiamo dato il nostro contributo anche alla norma sulla parità retributiva uomo-donna che dal 1 gennaio 2022 istituisce per le aziende la certificazione della parità di genere e lo sgravio contributivo per chi ne è in possesso. Sto lavorando, ha concluso Mazzeo, un grande progetto che si chiama Toscana 2050. Nell'idea che ho di Toscana del futuro la cura della famiglia deve essere condivisa fra uomo e donna, padre e madre insieme. Io penso che serva comunque continuare, continuare, continuare perché se anche la Toscana è una delle regioni che ha lavorato di più in questa direzione c'è ancora tanto da fare. Ringrazio la Commissione Pari Opportunità, svolge un lavoro enorme, ha voluto approfondire quello che è ancora il gender gap che esiste purtroppo, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, riguarda le retribuzioni, c'è ancora una differenza enorme, riguarda il numero di amministratori delegati, direttori generali e riguarda anche le differenze che ci sono nelle nomine pubbliche. Noi abbiamo fatto una norma, prima regione italiana, che davvero permette la parità di genere e l'abbiamo fatta con fatica, non è stato semplice. Io penso che buona politica sia quella che riduca queste differenze di genere, che riduca le disuguaglianze tra territori e la sfida collettiva va in questa direzione. La Toscana che io immagino, la Toscana del 2050, io spero davvero che si sia annullato completamente, anzi che si sia ribaltato, vuol dire che abbiamo investito culturalmente nella direzione giusta. È una sfida collettiva, serve l'impegno di tutti e noi come istituzione e consiglio regionale abbiamo fatto, facciamo e faremo la nostra parte. Le donne purtroppo sono raccontate soprattutto per la cronaca quasi quotidiana delle violenze e dei femminicidi o per le eccellenze che per lo più fanno colore. Molto più di rado si racconta il mondo delle donne, delle loro professioni. Questo è il momento migliore per fare il punto anche attraverso i dati, ha detto la Presidente della Commissione regionale per le pare opportunità, Francesca Basanieri. Emerge il fatto che ancora c'è molto lavoro da fare per raggiungere la parità dal punto di vista lavorativo per le donne. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, sebbene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia, ma le tipologie di lavoro che vengono fatte sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista della carriera né dal punto di vista del reddito. In più si evidenzia un aspetto, la maternità è ancora un momento di spartiacco nella vita lavorativa di una donna. Dopo la maternità con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part time. Comunque il lavoro di cura dei figli è sempre demandato alla donna e questo chiaramente le penalizza dal punto di vista del lavoro. Il nostro lavoro deve andare su più livelli, il principale ovviamente è quello culturale. Il set è nato dei fondi strutturali che si apre strategico e nei prossimi mesi saremo impegnati a dare indirizzi sulla loro destinazione. L'idea di criteri premianti per le aziende e le imprese che assumono donne da valutare con interesse. La Toscana non è al punto zero, i nostri bandi sull'imprenditoria femminile hanno avuto successo. Ci sono tante donne in agricoltura, ha ricordato la presidente della commissione sviluppo economico Elaria Bugetti. Soprattutto dobbiamo capire esattamente il punto in cui siamo e il punto dove vorremmo arrivare. Quindi capire che la regione toscana è sicuramente nel panorama nazionale una delle regioni dove tanti passi sono stati fatti, ma tanti ancora sono da fare. Un dibattito anche europeo che parte dalle piccole cose. Per piccole cose intendo i tempi delle donne, ovvero costruire tutte quelle piccole azioni quotidiane che consentano alle donne di poter svolgere al pari degli uomini alcune tipologie di lavori, ma anche creare un clima culturale dove l'uomo e la donna e le figure che si alternano nella gestione quotidiana dei lavori, della famiglia, possono avere una ripartizione equa. Per fare questo le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno fin da piccoli di allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso e quindi avere dei bilanci e delle azioni che fin da piccoli abituino a ripartire i compiti e le risorse sia agli uomini che alle donne, ragazze e ragazze e bambine e bambine. Questo proviamo a fare. Il Mugello che lavora Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, insieme ai consiglieri Benucci e Tozzi, ha visitato lo stabilimento dell'ortofrutticola Mugello. Nell'azienda di Marradi ha ripresa la produzione dopo che nei mesi scorsi era stata ventilata l'ipotesi di chiusura. Per scongiurarla i lavoratori avevano effettuato un lungo presidio e lo stesso Consiglio regionale si era interessato alla questione, premiando poi sei lavoratrici dell'azienda in occasione della giornata internazionale della donna. Era un impegno che avevamo preso l'8 di marzo quando abbiamo premiato, il giorno della festa della donna, le lavoratrici di Marradi che hanno resistito e che sono riuscite a ridare dignità al lavoro. È stato bello entrare in fabbrica insieme ai colleghi Benucci e Tozzi, poter vedere che lo stabilimento è ripartito, è ripartito nel pieno delle sue attività ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di produzioni. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi, questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui, per dare l'ennesimo segno di vicinanza alle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello e per ringraziarle davvero per la loro battaglia che è anche la nostra battaglia. I consiglieri Benucci e Tozzi hanno sottolineato l'importanza dell'impegno della politica per tutelare i posti dei lavoratori, auspicando la continuità produttiva. Tanti consiglieri regionali, io tra questi, abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili. E oggi visitarlo alla ripartenza, quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi, noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è un motivo di grande soddisfazione per questa terra e per tutta la regione toscana. Una battaglia importante è quella delle lavoratrici della fabbrica di Marradi. È una realtà fondamentale per il territorio, questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva, speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa avere una prospettiva per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante. Il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si parla di comuni come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Quindi auguriamo davvero che buona fortuna a tutte queste lavoratrici e speriamo davvero che questo sito possa continuare a mantenere la propria storia e la propria struttura. Certaldo Arte 22 A Certaldo sono in mostra le opere di tre artisti che rappresentano il passato, il passato prossimo e il futuro, ovvero Luigi Montanarini, Giampaolo Talani e Claudio Cionini. Sono loro i tre protagonisti di Certaldo Arte 22, il cartellone delle mostre che per tutto l'anno accoglierà i visitatori di Palazzo Pretoria a Certaldo Alto. L'obiettivo della proposta, che attraverserà l'anno in corso per poi interessare anche l'inizio del 2023, è quello di offrire un punto di vista nuovo rispetto all'offerta artistica ospitata a Palazzo Pretorio, scommettendo ancora una volta sull'arte contemporanea e sulle sale, dal fascino indiscusso dell'edificio simbolo del borgo medievale. Il percorso di quest'anno, realizzato con l'apporto di Exponent con la curatrice Francesca Parri, è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione, e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani, del passato e del futuro, a livello per farli ulteriormente conoscere, ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità, far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio e il borgo medievale. In più, in un percorso assolutamente convincente e coinvolgente, perché si rivolge all'arte del passato in qualche modo, ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti e alle esclusive artistiche che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto, che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita, anche post pandemia. e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convennistica, la parte artistica e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre. La prima delle mostre a prendere il via è stata Luigi Montanarini, la pittura come vita, opere dal 1925 al 1990, una finestra sulla produzione pittorica dell'artista fiorentino di nascita, scomparso nel 1998 a Roma, già legato a Certaldo da un'esperienza nel segno di Giovanni Boccaccio. La mostra, realizzata in collaborazione con l'associazione Archivio Luigi Montanarini e la Galleria d'Arte Nozzoli, resterà visitabile fino al 16 giugno 2022. Anima sola, viaggio a Finisterra è invece il titolo dell'esposizione dedicata alle opere di Gian Paolo Talani che sarà visitabile dal 25 giugno al 22 settembre 2022. Immaginare la realtà, prospettive, luci e atmosfere è infine il titolo della terza mostra realizzata in collaborazione con la Galleria d'Arte Nozzoli, dedicata alle opere di Claudio Cionini, protagonista a Palazzo Pretorio dal 1 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023. Saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte la prima sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 1966 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo appunto in Montanarini. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Gianpaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018. Una cosa importante è che l'ultima mostra che ha fatto Talani risale al 2019, ed è una mostra importante fatta ai magazzini del Sale di Siena e l'unica mostra che sarà allestita di Talani nel 2022 è esclusivamente la mostra di Certaldo. Si chiude invece con Claudio Cianini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cianini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie, così come alle metropoli. Una mostra che racconta una pagina di storia poco conosciuta, quella dei soldati italo-americani che durante la Seconda Guerra Mondiale combatterono in Italia con la divisa dell'esercito americano per liberare dal nazifascismo la terra in cui erano nati i loro genitori e i loro nonni. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, intervenendo al centro-expo di Palazzo del Pegaso all'inaugurazione della mostra fotografica Voci di Libertà e combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale, curata da Matteo Pretelli e Francesco Fusi. Matteo Pretelli, uno dei curatori, ha sottolineato che la mostra è il frutto di quasi dieci anni di ricerche negli archivi e nelle vecchie edizioni dei giornali, nonché dell'incontro con Veteranio o con i loro discendenti. Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano il Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si vuole dimostrare il proprio filoamericanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Sono ormai quasi dieci anni che facciamo ricerche in archivi sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni e alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. La mostra proseguirà fino al 22 aprile e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Grazie a tutti!